sergio perez aston martin gp belgio incidente vedete che qua scuola davanti la tifi frena e però incolpibile perez perché lo prende adesso a tele cronaca fa tra me per la simozini con la tifi che scuola tifi scuola tifi si gira tifi attenzione botto con perez e safety car ma io non so quanto è realistica questa safety car perché lì è la macchina in mezzo alla pista ci sono veloci soccorsi a toglierla al safety car è giusto se no una bandiera rossa ci stava bene proprio all'inizio dell'ultimo giro guagno gioco la mia claren per un testa a coda che davanti vedi di un alfa tavoli di yuki tsunoda va a sbattere contro l'alpine adesso a tele cronaca fatta da me attenzione guagno giù tenuto dietro infocato bellissimo non sente un testa a coda di yuki tsunoda si fiammano tutti in contatto con giù fuori rompa sospensione giù fuori acqua per il discorso safety car o voglia rossa essendo a fine gara non so cosa potrebbe decidere la fia se finire qua la gara oppure no ma quindi non saprei cosa farebbe la fia in f1 23 cosa deciderebbe perché se succederà un episodio così in f1 23 molto bene no ma no ma